Materica, grazie alla tecnica della metallizzazione che consiste nel fondere fili metallici quali ottone, rame, zinco, su supporti di diversa natura, riesce a trasformare in metallico qualcosa che metallico non è. Prendo ad esempio questo legno riciclato USB, è stata fatta una deposizione di ottone, quindi abbiamo trasformato questo oggetto in qualcosa di nuovo, ha una nuova vita, una nuova storia. Quindi questo è un qualcosa che a noi crea un'emozione, questa emozione io la rivedo quando andiamo a presentare questi oggetti ai nostri clienti. Ecco, questo è il nostro obiettivo, quello che ci spinge ogni giorno ad andare avanti è quello di creare questa emozione e trasferirla ai nostri clienti. Qual è l'essenza di Materica? Un mix ben equilibrato tra la sensibilità e l'occhio del designer e il cuore e la manualità dell'artigiano. Chi viene in Materica sa che troverà competenza, questo know-how artigianale, troverà un servizio orientato veramente al cliente. Spesso i nostri clienti vengono qui e dicono siete in grado di fare questo? Io rispondo sempre non lo so, ma ci proviamo e spesso e volentieri i risultati poi arrivano. Assieme a un network di competenze e conoscenze riusciamo a dare un servizio veramente completo ai nostri clienti e a soddisfare le loro richieste. Grazie a tutti i nostri clienti. 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 Grazie a tutti i nostri clienti.